Buongiorno a tutti, oggi è il 19 maggio, è martedì 19 maggio, e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e su Fuzimib. Quando parlo di tendenza, concetto volumetrico, associato all'analisi ciclica evoluta, alcuni non comprendono. Questo è il momento per comprendere, ovvero partenza eventuale di non soltanto un T settimanale ma di un T2 mensile nuovo, forza al rialzo, impennata nei prezzi, impennata nei volumi e in questo momento future in Germania che sparano a più 110, che su Italia sono a più 192 punti. Mediemobili che volano verso l'alto, dalle più veloci, quella azzurra, quella gialla che rappresenta il T-1 e le altre stanno iniziando a curvare verso l'alto. Questa è la tendenza. Tendenza a ribasso o rialzo. Ecco perché rispetto a trader poco capaci, da fine febbraio in avanti e inizio marzo continuavamo a fare operazioni short e a guadagnare, e gli altri aspettandosi un probabile rialzo perdevano solo soldi e andavano a zero sui conti. Se andate a rivedere anche su TradingView quante persone hanno sbagliato clamorosamente una quantità di trade pazzeschi su cui speriamo non abbiano messo dei soldi almeno, e se volete capire chi sono i trader migliori su qualsiasi piattaforma, andate a vedere che cosa facevano da fine febbraio a tutti i trade inizio marzo. Vedrete che purtroppo tanti andavano long e perdevano soldi, qualcuno continuava a fare operazioni short, privilegiando la tendenza. Bene, non abbiamo ancora le specifiche se questa sia la scansione temporale più corretta. Eventualmente potremo spostare la partenza del terzo T-3 qui sopra alle 16 e 15, e lo stesso identico problema tra l'altro notavo che avevamo in precedenza, anche perché qui siamo come al solito al limite delle 43 barre, e tenderei a questo punto a spostare qui il tutto, per il fatto che stiamo continuando a spingere verso l'alto. Quindi metterei qui il nostro 16 e 15, per sicurezza, e a lasciare qui eventualmente il nostro punto di domanda. Era qui? 11 e 30, sì. Per cui c'è spazio per salire? Tutto quello che volete, bisogna però fare attenzione immediatamente a quello che potrebbe essere dopo un eccesso di rialzo anche un pullback, che potrebbe arrivare come sotto forma di discesa per la chiusura eventuale a tre tempi, quindi dopo 1, 2, 3 T-3 del primo T-1. E questa è la cosa più pericolosa che ci sia, ovvero nonostante ci sia tendenza, bisogna fare attenzione a un'eventuale discesa, tenete conto che siamo sempre in golden cross, e poi una partenza. Quindi sostanzialmente il suggerimento è privilegiate sempre in questo periodo operazioni long, a rialzo, ed eventualmente aspettate operazioni a ribasso per poterli riposizionare long. Come fare? Attendendo la chiusura di un ciclo o di un sottociclo già grosso, non di un T-3, ma di un T-1. Ed è per quello che vi parlavo proprio di T-1. Altra cosa che faccio notare, sia qui che di qua, sempre su DAX, quando mi si diceva beh, ma caspita, ma dici che si tornerà sopra i 11.235, ma dai caspita, se è scesi così in basso, figurati se ci si torna. Eccoci qua, in 1, 2, 3 giorni. Capite che conoscendo la ciclica evoluta, che comprende dentro GAN, ciclica normale, inverso, volumi, divergenze, tendenza. Questo è quello che potete ottenere. Soprattutto se avete qualcuno che sa leggere bene i cicli. Perché ci sono tante persone che su internet parlano di ciclica, ma nella realtà dei fatti fanno delle analisi che, diciamo che lasciano il tempo che trovano, non danno target, come li do io, non li danno in un arco temporale preciso di tempo, non parlano delle variabili, non parlano di swing. Sì, ci stavamo dimenticando effettivamente degli swing. Per cui, per oggi, che cosa dovremmo semplicemente fare? Dovremmo attendere di vedere quanto in alto vuole arrivare e siamo soltanto a 5 barre il nostro terzo t-3. Vedere se eventualmente ci sarà un cedimento e in base alla forza che ci sarà agli swing che avremo, riposizionarci eventualmente long o attendere, nella realtà dei fatti, che ci sia una discesa per poi riposizionarci comunque long, quella del t-1, ovviamente, la chiusura del t-1, che potrebbe essere a tre tempi, come detto. Il target rimane quello dato qualche settimana fa, ovvero quello per cui andremo sopra gli 11.235. Abbiamo prima voluto andare a chiudere il settimanale, abbiamo fatto appunto un settimanale ribassista, successivamente siamo andati a farci il nostro, anzi andremo a farci il nostro target. Ultima considerazione sempre su Dax, guardatelo a livello giornaliero che roba. Secondo voi qui può essere partito un t-2? No. Qui? E con questa candela qua, dopo una finta di partenza estremamente blanda, qua può essere partito probabilmente il secondo uno t-2 dopo che il primo ha chiuso su questo minimo a 38 bar su 43 massime? Possibile? Abbiamo rotto tra l'altro il ritracciamento al 50% di Fibonacci? Stiamo rompendo con l'apertura che faremo la Kumo? Sono tutti segnali di forza che ci portano non soltanto a questo top a 11.235, ma poi piano piano verso quello a 12.120. Vediamo soltanto se e come ci arriveremo perché conteranno tanto i volumi, la benzina che avremo per arrivare fino a qua. Perché attenzione, da qui noi sappiamo che è partito qualche cosa di grosso, in questo momento non possiamo più mettere soltanto t-2 ma possiamo mettere già t-3 e in realtà potremmo mettere anche già un t-5, esattamente come vi dicevo dopo questa parte qua fatta. Ma fatto un t-2 rialzo, non è detto che il secondo sia ancora un rialzo, bisognerà proprio esaggiare lì la forza dell'indice. Per quanto riguarda il Kuzzi Nib, guardate, stessa identica condizione anche se qui il top è estremamente alto e quindi dovremmo ritrovarci prima ad avere come target i 17.678 che non so neanche se raggiungeremo con questa apertura, ma quasi. L'apertura ci proietta in zona 610, sì, ok. Successivamente bisognerà vedere se si avrà effettivamente la forza di arrivare fino a qua perché qui siamo già tanto in alto a 18.302 e di strada ce n'è ancora un po'. Certo, ecco, per ora c'è una sintonia ma con meno forza a rialzo, come avete visto, anche tra Fuzzi Nib e Dax, anche perché poi sono entrambi correlati anche se il Fuzzi Nib è meno nella realtà dei fatti allo standard del post 500. Non voglio farla troppo lunga, se l'analisi vi è piaciuta mettete un like qui sul canale YouTube, sapete che adesso ci sono tanti gruppi differenti a cui parlo e a cui dedico più o meno tempo, in base nella realtà poi alle scelte che fa ogni singola persona. desidero dedicare più o meno tempo all'analisi ciclica voluta, sta a voi, sicuramente non ha meglio, non costringo nessuno a fare niente. Io mostro semplicemente cosa si può fare con la ciclica voluta, previsioni che poi si avverano e ci permettono di guadagnare estremamente bene. Grazie per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata, la mia lo è già sicuramente.